Di nuovo ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale, tutte le notizie dalla regione. In primo piano vediamo subito alla cronaca. Assisse un cliente nella causa per un incidente stradale, poi una volta arrivato il risarcimento lo incassa lui aprendo un conto in banca a nome del proprio assistito. Succede ad Arezzo e così un 57enne del casentino avrebbe truffato un fiorentino che rivolto sia a lui per una pratica assicurativa si è visto portare via oltre 13 mila euro e perfino negare in banca il permesso per un mutuo. I fatti sono stati rievocati in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Elena Pisto. Il PM Bernardo Albergotti ha sostenuto le accuse di sostituzione di persona e truffa a carico dell'imputato che è un ex praticante avvocato. Una nuova perturbazione porterà a partire da questa sera un ulteriore peggioramento del tempo sulla Toscana. Domani, martedì 28 febbraio, spiega la protezione civile regionale, si assisterà in particolare ad un nuovo rinforzo dei venti di grecale con possibili forti raffiche su gran parte della regione. Dal tardo pomeriggio sempre di domani piogge sparsa a partire dal sud, mari molto mossi e deboli, nevicate fino a quote collinari e in appennino. Voltiamo pagina, ci occupiamo di sanità. Il ministro deve fare pressing sul Ministero dell'Economia per ottenere un finanziamento straordinario da poi allocare alle regioni per abbattere le liste di attesa. Lo ha detto l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, a margine di un convegno a Firenze sulle malattie rare. Bezzini ha poi evidenziato che c'è un elemento positivo nel mille proroghe, che è la reintroduzione di una norma che era già in vigore lo scorso anno, ma che il governo non aveva inserito nella legge di stabilità e che consente di avere un po' di elasticità, avere qualche strumento in più per contrastare il fenomeno delle liste di attesa, ha detto appunto il ministro Bezzini. Presidio dei sindaci della parte sud della provincia di Siena, davanti alla sede regionale del gruppo di ferrovie italiane a Firenze, in viale Spartaco-Lavignini, per chiedere un potenziamento dei trasporti ferroviari nella Toscana meridionale. Tra le richieste il miglioramento urgente per qualità ed efficienza e organizzazione dei servizi ferroviari su tutta la linea Siena chiusi e il potenziamento dei servizi dell'alta velocità. Il presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana, senese Giacomo Grazi, ha detto che dal 7 novembre scorso, quando c'è stata un'altra protesta simile, è accaduto il nulla. Ha detto che è passato Natale, non vorrei passasse anche Pasqua. La Blues Woman Anna Popovic sarà alla 42esima edizione del Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo il 9 luglio, in una domenica evento all'insegna del blues e rock internazionale. Con lei è una grande band al completo, con una sezione fiati d'eccezione. Lo rendono noto gli organizzatori del festival, aggiungendo che a breve saranno annunciati gli artisti protagonisti di questa data. Ed è davvero tutto, anche per quanto riguarda le notizie dalla regione. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi l'informazione prosegue sulla nostra rete. Arrivederci.